Partiamo da ciò che c'è di vero nella notizia. Tre furgoni sono stati rubati nella notte di domenica scorsa in un'auto rimessa della provincia di Salerno. I tre mezzi autocarri Fiat Ducato di colore bianco con scritta laterale in rosso Snam Gas non contengono gas né materiale esplodente. Tutto quanto gira in questi giorni tra internet social finendo anche nelle chat dei genitori delle scuole salernitane e generando una sorta di psicosi terrorismo e frutto della fertile terra delle fake news. C'è quell'onda di falsa notizia che come in una sorta di gioco del telefono 4.0 si modifica e si gigantisce di voce in voce. Le forze dell'ordine contattate anche dalla nostra redazione per avere chiarimenti in merito hanno infatti tutte dalla polizia ai carabinieri smentito categoricamente. Al momento si tratterebbe dunque solo di normali indagini sul furto come ne avvengono ogni giorno di mezzi, auto, furgoni in tutta Italia. Cercando su internet infatti si reperiscono notizie molto simili e potrebbe essere stato proprio un analogo caso accaduto a Milano a far scatenare il giro di notizie false anche su Salerno. Ma niente fa pensare che i furgoni rientrino in un piano più generale di un possibile utilizzo per raid terroristici. E' chiaro però che la mente di tutti è andata ai più recenti atti che da Londra a Parigi fino a Barcellona ha visto l'Isis utilizzare camion o dei furgoni come mezzi di morte.